Ciao a tutti ragazzoli, eccoci qui nella nuova video recensione Allora ragazzoli, oggi andrò a parlarvi di un altro prodotto dell'azienda Klim L'azienda in start up, questa azienda ve l'avevo già presentata qualche mese fa Dove vi ho mostrato la loro tastiera e il loro mouse Che dire, andiamo a vedere un po' meglio questo microfono Avete presente le navi spaziali? O cosa? Un microfono proprio da nave spaziale? Sì, gli alieni ci stanno invadendo, chiamate i rinforzi per favore, chiamate i rinforzi Ragazzoli, vi voglio mostrare come lavora questo microfono Vi mostrerò due clip, una clip con la registrazione del mio vecchio microfono E la seconda clip con la registrazione del microfono Klim In questa clip ragazzi sto registrando con il mio vecchio microfono Quindi vi volevo far sentire la differenza con il nuovo microfono della Klim Questa invece ragazzi è la clip che sto registrando con il microfono della Klim Come potete notare il suono è molto più pulito E non si sente quel fruscio che si sentiva con il mio vecchio microfono Quindi raga, come potete notare, questo microfono è decisamente meglio Bene ragazzoli, come avete potuto vedere, il microfono Klim lavora meglio Se tu urli o appunto parli da vicino, non si sente tanto il fastidio rispetto al microfono mio precedente Voglio specificare una cosa, all'inizio con questo microfono ho avuto un problema perché si sentiva male Ho contattato l'azienda Klim che neanche 24 ore mi hanno risposto dicendomi come risolvere questo problema Io voglio dire subito che questo microfono lavora bene soprattutto per la qualità prezzo Perché veramente ragazzi trovate questo microfono al prezzo di 29 euro Per un microfono di questo prezzo la qualità è veramente ottima Comunque avete potuto anche sentire voi Io mi trovo benissimo, lo uso appunto nelle mie live Quindi quando mi sentite in live sto usando appunto il loro microfono Vi ricordo che potete trovare il link per acquistare questo microfono nella mia descrizione Quindi proprio qui sotto, qui sotto, qui sotto Lasciate like se questo video vi è piaciuto Condividetelo con i vostri amici che magari hanno bisogno di un microfono E non hanno tanto budget Questo è il microfono proprio che fa per loro Quindi ragazzoni, detto questo io vi do un grosso salutone E come sempre ci vediamo nel prossimo video recensione E un saluto dal vostro Storto ma non troppo Ciao ragazzoni!